Siamo pronti per una nuova stagione. Sono stati presentati quest'oggi all'interno di Palazzo Raffaello i nuovi spot promozionali della Regione Marche che verranno presto trasmessi sulle reti nazionali. Protagonista di questi video, il CT della Nazionale di Calcio e Iesino, Roberto Mancini. Vi presento il terreno di gioco su cui ho mosso i primi passi. Qui ogni giorno scendono in campo registi di tradizioni uniche, bandiere di una storia senza tempo. Ed io farò di tutto per farvi conoscere questa sconfinata bellezza. Perché abbiamo il potere di creare emozioni, possiamo far urlare di gioia, possiamo far spalancare gli occhi, possiamo far innamorare. Siamo pronti per una nuova stagione. Siamo pronti per una nuova stagione. Le Marche, pronte a farti emozionare. Sono questi gli slogan dei diversi cortometraggi che racchiudono le bellezze e le città di tutto il territorio marchigiano. Ancora la campagna non è nota, sarà nota praticamente da domani. Quindi l'effetto entusiasmo lo notiamo e sicuramente anche l'effetto interesse. E poi speriamo veramente incrociando le dita che si potrà pure misurare un effetto per notazioni. Però oltre all'effetto per notazioni, la speranza è che la nostra regione possa essere meglio identificata e soprattutto riconosciuta e riconoscibile intorno all'offerta che noi possiamo proporre al mercato nazionale e internazionale. Inoltre il presidente Francesco Acquaroli ha parlato anche della situazione del turismo nella nostra regione. Dopo nove mesi purtroppo di limitazioni molto forti, lo stato di salute del turismo marchigiano è l'attesa per una stagione che deve dare una boccata di ossigeno a un settore che ha subito uno stop pesantissimo con danni all'occupazione e all'economia veramente molto rilevanti. Sicuramente la speranza nella stagione estiva e soprattutto la speranza in una ripresa che non vedrà più stop così forti e pesanti è l'elemento positivo di questo momento che noi speriamo di riuscire a sostenere con la promozione in Italia e in Europa e che speriamo di riuscire a sostenere anche con una visione, una progettualità che possa portare la nostra regione nei mercati internazionali e soprattutto nella via della destagionalizzazione. Abbiamo il potere di creare emozioni, possiamo far urlare di gioia, possiamo far spalancare gli occhi, possiamo far innamorare. Siamo pronti per una nuova stagione.